Uno dei quadri più importanti del manierismo, che raffigura l'incontro tra Maria e la cugina Elisabetta, entrambe incinta, narrato nel Vangelo di Luca. La visitazione del Pontormo, trasferita di recente dalla Pieve di Carmignano, attualmente inagibile, torna finalmente visibile al pubblico nel suo nuovo allestimento temporaneo, nella Sala del Fregio, alla Villa Medicia di Poggia Caiano. La pala si potrà ammirare all'interno del consueto percorso di visita, da martedì a domenica, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30, con prenotazione obbligatoria e gratuita telefonando allo 055 877012. Inoltre, domenica 13 ottobre, la villa sarà aperta anche in orario serale, con visite accompagnate, sempre con prenotazione obbligatoria, alle 20, 21 e 22. È stato un lavoro lungo, però impegnativo per tutti, per gli uffici, per le persone che ci hanno collaborato, però a vederlo ora veramente posizionato dove è la sua collocazione temporanea è molto bello. La stanza è favolosa, le luci sono bellissime, secondo me ora la valorizzazione c'è, ora dobbiamo lavorare tutti insieme, insieme alla soprintendenza, a Carmignano, per portare più turismo, per aiutare anche il movimento in questo paese, perché questo è il motivo anche principale per cui l'abbiamo fatto e quindi è il nostro lavoro importante. Però una grande soddisfazione e chiaramente un grande ringraziamento a tutti per essere arrivati a questo giorno. La Direzione Generale Musei ha stanziato un finanziamento di 35.000 euro a favore della Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana per tutte le operazioni legate all'allestimento della visitazione nella sala del fregio della villa di Poggiaccaiano e all'adeguamento delle condizioni microclimatiche della stessa. L'opera resterà alla Villa Medicea fino al 31 dicembre. Grazie a tutti.